Non bastava solo la promozione in Serie C unica, avete messo anche la ciliegina sulla torta, il campionato è stato vinto al termine di una bella serie contro Venafro, le gare casalinghe le avete dominate. Sì, indubbiamente è stata una serie finale davvero combattuta, quindi onore a Venafro per averci fatto sudare sette camice. Però penso che alla fine il nostro maggior tasso tecnico è venuto fuori, quindi siamo soddisfattissimi per questa meritata vittoria. Un successo meritato perché siete stati in testa, se non dalla prima giornata, dalle primissime comunque. Sì, abbiamo avuto all'inizio Mastro Domenico, vi presento Andrea Mastro Domenico, mattatore della finale. No, no, è sempre uno. All'inizio tutti i quattro quinti del quintetto nuovi, quindi abbiamo avuto bisogno di un momento di rodaggio per amalgamarci e per conoscerci meglio. Però dopo, onestamente, i trovati gli ingranaggi giusti, da lì abbiamo iniziato a scalare la classifica e siamo rimasti su fino alla fine. Il pubblico è intanto crescendo partita dopo partita, l'entusiasmo pure. Sì, sì, indubbiamente è stato un crescendo di emozioni, di entusiasmo e iniziati i play-off abbiamo fatto valere il fattore campo, che indubbiamente il fortino del Palasca è stato fondamentale per noi. Ora ci unica. Ora ci unica, ma ci penseremo tra qualche giorno. Ora ci unica, ma ci unica, ma ci unica.